buongiorno a tutti vi abbraccio vi bacio a tutti vi voglio tanto tanto bene a tutte le persone che mi state seguendo su questo canale mio di youtube vi sto invitando anche a voi quelli che non conoscete questo canale abbonarvi a iscrivervi qua per scoprire insieme come tante belle cose per voi che vi farà un grande piacere solo le persone che vi piace queste cose diciamo chi romanzia le carte vi piace a vedere queste cose vi incadrate su queste cose io vi ringrazio di nuovo di cuore a tutti che siete sempre insieme con me e faccio di cuore tutto per voi a farvi stare un po bene diciamo volevo fare oggi un po di lettura e le mie carte per voi tutte le persone che mi guardate anche sul mio gruppo di facebook che siete iscritti per sentimenti diciamo così no facciamo una lettura generale non personalizzata in tre variante con cinque carti io estrago cinque carti e chi si sta incadrando in prima variante seconda e terza devi incadrate bene de no no vediamo un po di vi piacerebbe quello che sto facendo io devi volete scegliere prima variante seconda e terza fermate questo video e lo guardate e del vi è piaciuto vi prego lasciatemi un commento vediamo ragazzi per sentimenti parlo solo di sentimenti e dopo in altre filmate forse farò anche per soldi per affari per altre cose oggi parliamo di sentimenti iniziamo con prima variante streggiamo cinque carte uno questa sarà prima variante seconda e terza e vediamo facciamo un po così che si possono vedere un po le carte questa è prima variante tutte le persone che siete misi su prima variante è l'ambito di amore qua c'è qualcosa che non va vedete perché vi sto esplicando o siete separati e ha sofferto tanto per un amore che era un po fuori da normale diciamo un amore freddo un amore che va dato illusione un amore che va dato tipo depressioni o ci avete un amante ok che quest'uomo qua appartiene a un'altra donna può stare due variante o vostro uomo ok va tradito con un'altra donna diciamo così e voi adesso che siete donne che siete uomini e voi siete stati traditi siete un po diciamo così dilusi della vita in amore e non ci mai volete avere niente da fare con nessuno però qua avrate una bella fortuna perché vi esce sole e vi esce questa pianta che porta fortuna ok ma noi questa relazione che parlo questo già è finita di voi avete avuto un relazione che vi ha fatto male è inutile che vi ritornate di nuovo la questo uomo la questa donna perché non vi porta niente di bello universo comunque vi porterà nella vostra vita il sole che significa che vi porta fortuna con altra persona che siete state sposate che ha avuto forse un finanziamento più lungo o chi so io che ha avuto un amante anche perché qua mi sa che prima variante si tratta proprio di amanzia di tradimento o che lui ha tradito o che lei l'ha tradito e sono uscite fuori scoperte queste cose perché la verità prima un po si scopre e si è finito tutto e modo un po più brutto diciamo così però universo guardate vi manda il sole e la fortuna e l'amore vediamo un po' estragiamo una carta per vedere che succederà diciamo in vostri sentimenti prima per le persone che ha scelto prima variante diciamo non prima le persone mi scusate tutte le persone che ha scelto prima variante vediamo che vi dice un universo sì le notizie questi sta postare messaggi parole di amore sì secondo me per prima variante qua mi sta uscendo chiaro che voi iniziate a comunicare con un'altra persona trovate un'altra persona che mi sa per bene è una persona sincera che se domini o donne arriverà un'altra persona nella vostra vita e allora vi dico pazzi e niente vediamo per seconda variante chi ha scelto seconda variante che succede qua in amore qua in amore è una questione di tempo perché qua in amore le carte sono bellissime prima di tutto ci abbiamo arco baleno che significa sentimenti mandati da universo dopo ci esce la potere di urso polare è una forza grande in amore un animale forte e dopo ci esce questa cosa busola che significa questione di tempo anche del sette in coppia è una forte coppia è una forte c'è una unione una coppia unita non ci sono problemi è vero è vero che esce questo serpente in casa che significa che la vostra casa che siete sposati sposate che ci avete un finanziamento che ci avete una relazione di tanto tempo in vostra casa c'è un po' di cose negative in senso che sono le persone che entrano in casa a bisticciare influenzare può stare una influenza da parte di un anturagio negativo può stare in una influenza da parte della famiglia può stare una influenza chi so io che qualcuno l'ha mandato si può interpretare anche così però di solito questa coppia è forte vedete ci sono sentimenti c'è la forza di urso polare c'è la questione di tempo sì ci sono stati con questo serpente la vostra casa un po' di problemi o può stare dovete stare un po' attenti perché è peccato la vostra copia vostro matrimonio vostro finanziamento è bello però di fuori le persone di esterno ci sono con la influenza negativa vediamo adesso estragiamo anche una carta per questa seconda variante che ne dice universo diciamo questa copia questo matrimonio rimangono insieme o no sì io dico che sì però vedete di nuovo riesce la lupa qualcuno della umbra noi sta bene che siete insieme cioè tutte le persone che vi state trovando su seconda variante io vi sto dicendo attenzione o avete un amico invidioso che vuole male la vostra famiglia e vi mette in testa tutte le cose che non sono buone o ci avete qualcuno che non non vuole che voi state insieme e che non si fa vedere fuori di casa perché qua siete seguiti quella vuole dire allora vi dico attenzione per terza variante vediamo un po qua 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 c'è sì qua c'è amore vedete c'è un grande amore in terza variante però vi sentite soli ok o che la coppia è un po affreddata qua purtroppo ci sono anche bambini in mezzo vedete questo bambino innocente tutto ciò però questo uomo sta solo è come se forse si sente lui o lei sola in relazione non è apprezzato è un relazione che si ha affreddata un po' o praticamente è sempre andato con lavoro lui o lei è un o sono un periodo di distacco in tra loro due per qualsiasi problema perché quasi ci sono qua può stare un matrimonio perché ci sono bambini in mezzo che però si qua si tratta della maschera della falsità uno di loro due ha detto una bugia ha giocato un po' sporco diciamo così sono stati falsi uno con altro o lui con lei o lei con lui sono stati problemi di soldi vedete pesci che notano in acqua allora può stare anche che la verità è uscita fuori che qualcuno in questa storia sta soffrendo tanto qua si tratta sicuramente di un relazione più lunga o di un matrimonio perché ci sono bambini in mezzo problema è che questa persona come si vede qua aspetta che aspetta lui che aspetta lei aspetta le decisioni che ci devi prendere diciamo si sta pensando è bene che ho fatto questo uno è bene che succede in questo matrimonio mio relazione mio finanziamento che succede va avanti uno va avanti perché qua sta giocato con la maschera con la falsità chiediamo l'universo anche per terza variante vediamo un po' si salva questa copia o matrimonio che vediamo un po' sì io dico che sì perché c'è la stella ok quando esce la stella è la fortuna non si rovina no no esce bene perché l'universo manda le stelle vedete c'è una bellissima stella di fortuna a questa copia si salva si salva perché ci sono anche bambini in mezzo non c'entra sempre bambini perché te non mai stai bene con quell'uomo con quella donna anche te sono bambini prima un po' tutti andiamo sulle nostre strade però qua la copia si salva passano per si perdonano uno per altro e uno con altro e vanno avanti io mi fermo qui vi ringrazio di cuore di nuovo che mi ha seguito spero che vi piace tutto ciò che faccio per voi prossima volta farò anche altri filmati video con oroscop con diciamo per soldi per altre cose io vi auguro una bella giornata un buon weekend e ci vediamo prossima volta ciao ragazzi ciao 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 ciao